il luogo della scatola celeste del cranio che presiede all'equilibrio si chiama labirinto che intorno si organizzano le cose come stanno poi l'ultimo stato cruciale l'ultimo compratore fa per chiarire sapere la prima volta in mezzo secolo di teatro quali fossero i confini della casa effettivi della proprietà tenuta lasciandola si è potuta vedere intera altrui esattezza poi testarda senza oggetti nei colori solo millimetrati i detriti il tetro puro dei dati